...versamento IVA. Contro la contraffazione serve la mano dura dello Stato, dirlo in audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno il Vice Presidente della ConfCommercio, Lino Stoppani, Marianna Borea. Intensificare i controlli, rafforzare l'attività repressiva da parte delle autorità competenti non solo sulla contraffazione delle merci ma anche sulla commercializzazione abusiva dei prodotti, rivedere il quadro normativo al fine di renderlo realmente più efficace. Sono questi i punti che emergono dal documento di ConfCommercio presentato in Commissione dal Vice Presidente Stoppani e su cui si chiede l'intervento del Parlamento. Occorre essere uniti e lavorare di concerto con le istituzioni, le forze dell'ordine e le associazioni di categoria, ha detto, se vogliamo contrastare tali fenomeni. È fondamentale quindi, sottolinea Stoppani, una maggiore attenzione da parte del legislatore perché avere regole univoche e un adeguato sistema sanzionatorio ci consente di creare un mercato sano, legale e lealmente concorrenziale. Credo che ci sia ancora molto da lavorare per una comunicazione corretta al consumatore, per far capire che ogni volta che si compra un oggetto contraffatto si fa un danno a noi stessi perché i numeri della disoccupazione generata anche dal commercio del falso made in Italy e quindi dal generare un commercio illegale non aiuta la nostra economia. Secondo la Confederazione, l'altra via della contraffazione che con la crisi ha trovato terreno fertile è il web. Occorre, ribadisce, agire a livello internazionale e reprimere tutti gli attori della filiera, dal motore di ricerca al provider fino al sito che vende la merce contraffatta. Bloccare i flussi è difficilissimo, ci sono anche volontà di non farlo e oltre questo c'è anche il problema delle dogane. La nostra dogana è la più selettiva, noi possiamo rafforzare i loro controlli ma le merci possono passare agli altri 27 paesi. Infine, Copcommercio si è schierata anche in difesa dei prodotti nazionali di qualità contro l'imitazione dei marchi a denominazione protetta e le frodi nell'etichettatura.